Da un lato veder salvaguardati i posti di lavoro degli oltre 1.800 dipendenti, dall'altro versante fare chiarezza sulle responsabilità della proprietà nella gestione. E con questo duplice obiettivo, che è stato convocato e anticipato urgentemente ad oggi pomeriggio al Mise, il tavolo istituzionale per discutere sulla vicenda del fallimento di Mercatone 1. In concomitanza del confronto al di Castero, i lavoratori saranno pronti ad incrociare le braccia dando vita ad un sit-in di protesta proprio davanti alla sede ministeriale. La notizia del fallimento di Mercatone 1 ha scosso l'Italia intera sabato scorso. Serrande chiuse senza preavviso nei 55 punti vendita in tutta la penisola della nota catena di mobili. E' amara sorpresa per gli oltre 1.800 dipendenti che sono stati licenziati via social, con un messaggio WhatsApp o su Facebook. Venerdì scorso, così il Tribunale di Milano, ha decretato il fallimento della Sherman Holding SRL, la società che nell'agosto del 2018 aveva acquistato e rilevato i punti vendita Mercatone 1. Nello specifico è stato riscontrato un indebitamento di 90 milioni di euro, maturato in nove mesi con una perdita mensile attestata tra i 5 e i 6 milioni di euro. Sindacati sul piede di guerra in tutta Italia. Il segretario generale della CGL Puglia, Pino Gesmundo, ha annunciato per domani la convocazione della Task Force regionale, il tavolo di crisi, per analizzare la situazione dei lavoratori. Sono infatti sei megastore nella regione, a Bari, Terlizzi, Francavilla Fontana, San Cesario di Lecce, Matino e Surano, con circa 250 dipendenti che temono di restare nelle proprie case.